Milano che dov'è andata a scartarsi, sicuro lì un po' che c'è l'è lì due balli al secondo è il team Di Pagli e pronto a posizione al secondo posto con il numero 236 e li secondi anni Simone L Prosiglio e Stefano di Mardi tre balli al terzo posizione e due balli al tre posizione terzo posto quindi a del secondo posto Grazie.